Musica Buongiorno a tutti amici benvenuti in un nuovo vlogmas il nostro appuntamento dedicato all'apertura dei calendari dell'avvento oggi per me ma anche per voi perché come sapete siamo diciamo in diretta ossia ogni giorno apriamo insieme una casellina dei calendari dell'avvento appunto relativa al giorno quindi oggi è martedì 20 dicembre andiamo subito a scoprire cosa ci riservano oggi i nostri calendari dell'avvento primo calendario dell'avvento, calendario l'angelica andiamo insieme ad aprire e scoprire dov'è il numero 20 eccolo qua, proprio qua sopra vediamo insieme cosa ci sarà oggi ok tisana appartenente alla linea benessere questa qua è sollievo stomaco contrasta i brucioli gastrici con liquirizia e camomilla molto interessante diciamo che io solitamente non ne ho bisogno ma queste tisane sono sempre utili averle in casa perché non si sa mai al bisogno possono sempre servire passiamo al calendario pompadour calendario pompadour cerchiamo insieme il numero 20 eccolo qua sopra vediamo un po' cosa ci sarà ok ok tisana già provata anche questa si chiama caldo a braccio vi leggo esattamente gli ingredienti perché questa tisana ragazzi se vi piacciono le notte speziate del natale è buonissima allora mix alla frutta aromatizzato all'uvetta rum e arancia per infuso per quello vi dicevo in altri video che sa appunto di vin brûlè ingredienti frutta 63% mele rosa carina scorza d'arancia ibisco aroma di uvetta rum e arancia cannella ragazzi questa è buonissima se vi piace il sentore appunto del vin brûlè non so se l'avete mai provato questa è veramente buona 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 e avvolgente passiamo adesso ai calendari beauty calendario del Rossmann andiamo insieme a cercare il numero 20 eccolo qua e oggi il nostro spoiler si trova proprio qua davanti c'è scritto focus on the good vediamo un pochino carine sempre utili abbiamo trovato oggi queste pinzette per sopracciglia sono veramente carine poi sapete io il rosa lo adoro questo rosa bellissimo che è tutto brillantinato non so se si capisce dalla fotocamera ma a tutti i brillantini veramente carine poi sembrano abbastanza funzionali perché vedo che la punta è abbastanza fine sempre utili queste poi passiamo al calendario balea calendario balea il numero 20 eccolo qua ormai i numeri si notano a colpo d'occhio perché ne sono rimasti pochi quindi vediamo numero 20 ok flacconcino così oggi dice di essere un fus batter penso sia un burro di qualcosa vediamo un po a cosa serve esattamente allora è praticamente un burro per i piedi all'aroma di vaniglia sentiamo un po il profumo buonissimo anche questo sempre utile soprattutto per questi periodi per questo periodo invernale per tenere ben idratati i piedi passiamo adesso all'ultimo calendario quello della degusta box calendario degusta box ormai si notano anche qua i giorni mancanti perché ne mancano davvero pochi il numero 20 eccolo qua vediamo un po cosa ci sarà oggi ok prodotto molto interessante del marchio roberto queste bruschettine al pesto deliziose croccanti devono essere molto molto buone perché io adoro poi le bruschettine fatte così i crostini quelli che vendono all'olio in generale quindi queste devono essere molto buone perché il marchio roberto molto conosciuto molto buono prodotti veramente validi e queste bruschettine al pesto devono essere davvero saporite le proveremo rieccoci anche oggi come avete visto diciamo puntata conclusa anche oggi abbiamo trovato tante cosine interessanti sono curiosa di provare il burro per i piedi che abbiamo trovato nel calendario Balea perché un burro per i piedi del genere così proprio corposo non l'avevo ancora provato vedremo un pochino come si comporterà ragazzi io come sempre vi ringrazio di aver seguito anche questo video vi mando un grosso bacio io vi do appuntamento a domani mercoledì 21 dicembre per scoprire insieme cosa ci sarà nelle caselline dei calendari dell'avvento di domani grazie a tutti grazie a tutti